Peripezie, problemi vari, connessione, stanchezza, un casino, ma siamo qua a fare questo video, non so mai se lo vedrete perché dipenderà tutto dalla mia connessione, che sta piovendo e non so perché mi dà problemi, comunque vediamo un po'. Amici appassionati di grande palacanestro italiana, buonasera e benvenuti su Molinino Sporciano e ragazzi, seconda semifinale dopo Milano che ha distrutto completamente Venezia, parliamo brevemente di questa prima semifinale, che ha visto Venezia, io non l'ho vista, ve lo dico, ha visto comunque Venezia che fino al secondo quarto ha tenuto testa a Milano, poi gli Ains, i Rodriguez sono venuti fuori, i Datome hanno fatto sì che l'Olimpia praticamente staccasse il pass verso la finalissima di domani, già alla fine del terzo periodo. Esce malamente di scena la detentrice di questo trofeo, l'Umana Rear Venezia di Walter De Raffaele, che comunque ha fatto un bel percorso. Partiamo ora alla partita odierna, alla partita appunto di questa sera, partita che ha visto di fronte la testa di serie numero 2, ovvero l'Epicasa Brindisi, e la testa di serie numero 6, ovvero la vittoria Libertas Pesaro, che nella partita di ieri, lo sapete tutti, ha vinto contro il Banco di Sardegna Sassari. Parliamo di questa partita, secondo me, innanzitutto ve lo dico, ha vinto Pesaro, ha vinto 74 a 69, ha meritato di vincere, ha meritato di vincere perché ancora una volta è sempre stata davanti, secondo me, quando una squadra è sempre davanti nel putteggio, merita di vincere. Ma innanzitutto sarà un po' spartita molto più genuino, senza numeri, statistiche eccetera, perché il compito l'ho spento, perché ho detto vaffanculo basta. Comunque, parliamo un po' di questo match in breve. Allora, Pesaro si è affidata molto su Kane. Kane, secondo me, ha vinto la sfida con Perkins e con Krubali, con i due centri appunto della sua allenata da Frank Vitucci, e ha dominato da quel punto di vista. Robinson, Jesse Robinson, nonostante le energie spese nella partita di ieri, si è fatto rivedere ed è stato lui il faro di questa squadra. Eccezionale. È alto 1,72 ma comunque dà fastidio a tutti, dà fastidio a tutti quanti. In più, c'è da ricordare anche Gerard Robinson, che aveva fatto una prima parte di partita un po' così, era sotto anche nella valutazione e poi ha messo qualche canestro importante che è servito a questa squadra. Mi dispiace per Gerard Robinson, perché il giocatore mi piace tanto, e sapete tutti che alla fine di questa finaletta dovrà abbandonare Pesaro, in quanto tornerà Franz Massenat, fermato per infortunio qualche mese fa. Poi, sempre decisivo Delfino, i tiri più importanti, i tiri finali li ha messi sempre lui, l'esperienza di Delfino si vedono, lui che è giocato anche nella lega professionistica più importante del mondo per quanto riguarda la pallacanestro, ovvero la NBA. Per quanto riguarda Brindisi, si è vista oggi più che mai l'assenza di Diangelo Harrison, con Zanelli, con Thompson, che hanno cercato di fare le veci di Diangelo Harrison, ma non ci sono riusciti. Fatto sta che la squadra, che ha un organigrama più di gruppo, è riuscita a portarla a casa, mentre invece molto spesso Brindisi vede una differenza importante fra giocatori della panchina e giocatori titolari. E' mancata oggi la sua stella più assoluta, ovvero Harrison. Lo stesso Willis non ha giocato sicuramente al medio delle sue capacità e quindi queste sono delle possibili cause di sconfitta per la squadra che negli ultimi due anni aveva raggiunto le finali di Coppa Italia, riuscendo però non mai a vincere. Per quanto riguarda Pesaro, mi sembra che il 2004, che non raggiungeva le finali di Coppa Italia, è un risultato molto ambito che proietta la squadra allenata di Ojasmin Repe, cioè non solo a giocarsi domani in una partita quasi proibitiva contro l'Olimpia Milano, il trofeo, ma tuttavia è automaticamente qualificata per le Final Four della Supercoppa del prossimo anno. Detto questo vi saluto e vi ringrazio e ci vedo un prossimo video.